A più di 70 anni dalla prima rappresentazione che fece il successo dei fratelli Edoardo e Peppino De Filippo torna in scena al Mercadante l'opera in due atti di Armando Curcio a che servono questi quattrini. La commedia sarà in programma allo stabile partenopeo fino a domenica 22 gennaio e viene riproposta in tutta la sua comicità da Luigi De Filippo, autorevole interprete del teatro napoletano di tradizione. Capace allo stesso tempo di far divertire ma anche riflettere, la messi scena è un elogio alla furbizia raccontato attraverso le vicende del marchese Edoardo Parascandoli che è diventato serenamente povero e un accannito seguace della filosofia stoica e insegna al fedelissimo Vincenzo Esposito il disprezzo per i beni materiali. Io ho dilapidato, io ho scelacquato, ho voluto assaggiare, assaporare tutte le cose belle che mi offrima la vita, le belle donne, il bel vestito. Con un susseguirsi di situazioni comiche Edoardo interpretato da Luigi De Filippo proverà la sua teoria dimostrando a tutti che i quattrini non servono ma basta un po' di furbizia e la ma di ricchezza per diventare un personaggio accreditato.